Avevo ricominciato a fare quel sogno. Ma stavolta era diverso. Non ho mai dato così importanza alle coincidenze. Da quando quella donna si è seduta sulla mia poltrona, è ricominciato tutto. Mi chiami Barbara. Dottoressa Nigoni. Sono molto impegnato con il mio lavoro. Non credo riuscirei a seguire anche altri casi. Qualcuno? Sembrava tutto così vero. Ehi! Osta! Ciao a tutti, sono Samantha. E nella vita la mia paura più grande è stata il pensiero di mio padre. Samantha, credo che lei abbia davvero bisogno del suo aiuto. Lei ha una gran voglia di raccontare la sua storia. Ci sono altre tre persone. Come altre tre persone? Tu fai i miei stessi sogni. Non è possibile. Quindi siamo tutti in pericolo? Mi ha dato la foto di un ragazzo, ma non so chi fosse. Io non ti capisco. Smettila, ti prego! Subito sembrava un semplice sogno. Non provo dolore. Solo paura. Ehi, sei ancora lì. Ehi, Ehi! Non toccarla! Com'è possibile? No! Stai lontano da me! Ehi! Lo sai che non potrai scappare per sempre. Bella dottora. B Grazie a tutti.